Il fratello dell'ingegnere ucciso 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 Iscritto nel registro degli indagati Dai magistrati Ma si tratta come fanno sapere fonti investigative Di un atto dovuto Lo stesso Luca ha un alibi solido per lunedì sera È stato lui stesso a raccontare agli inquirenti Che era in un locale a vedere la partita E avvertito dell'accaduto Si sarebbe precipitato a casa Oggi si terrà l'autopsia sul corpo dell'ingegnere Ma fiorano nuovi particolari Sulla storia della famiglia In cui le tensioni erano forti Dopo la morte del patron Lucio Luca aveva già avuto dissidi con Vittorio Almeno una volta culminati in un'aggressione Quasi 13 anni fa Suo fratello Vittorio In quella denuncia presentata anni prima Lo descrive come aggressivo e violento Vittorio e Luca Il primo genito e l'ultimo di casa materazzo Il professionista in carriera Che aveva ereditato il timone dell'azienda paterna E il giovane rampollo di famiglia Dagli sbocchi lavorativi Ancora incerti Ancora poche ore il quadro potrebbe farsi più nitido Proprio alla luce degli esiti Sui possibili indizi refertati finora Tracce organiche Ma anche testimonianze Come è noto Il cosiddetto colpo di grazia È stato visto da un testimone Era uno dei condomini di casa materazzo E ha fornito particolari agli inquirenti Sarà sospeso dal comune di Napoli Il vigile che dieci giorni fa Aveva schiaffeggiato un cittadino Che gli aveva fatto notare Di aver occupato un posto per disabili I dettagli Come preannunciato È arrivato il provvedimento Per il vigile schiaffeggiatore di Napoli L'agente di polizia municipale Che circa dieci giorni fa Era stato ripreso da un cittadino Per aver parcheggiato la propria auto Su un posto disabili Ora rischia una pena esemplare Il vigile aveva aggredito il cittadino Che gli aveva fatto notare il suo errore Il comandante della polizia municipale Ciro Esposito Dopo l'istruttoria del caso Dopo aver letto le relazioni del capitano Dell'unità operativa di fuorigrotte Dello stesso agente Ha deciso di procedere Con l'invio degli atti All'ufficio disciplina Del comune di Napoli Cosa vuol dire Che la punizione da infliggere Al vigile Sarà sicuramente maggiore A dieci giorni di sospensione Tetto massimo Entro il quale Lo stesso comando Ad emetterla Adesso la disciplinare Di Palazzo San Giacomo Avrà 120 giorni di tempo Entro i quali procedere Nei confronti del vigile urbano Sulla vicenda Che ha avuto un eco Mediatico nazionale E' intervenuto anche nei giorni scorsi Il sindaco dei Magistris Che non ha fatto sconti Da quello che si vede Nelle immagini Siamo davanti a fatti inaccettabili Fu il commento Del primo cittadino Che diede subito Mandato per l'apertura Di un procedimento disciplinare Centinaia Poi i commenti E le reazioni Tanto da far diventare virale Il video Girato dal cittadino Che ha subito l'aggressione Adesso la politica Di Maio e De Magistris Scelgono rispettivamente Pomignano, Darco e Nola Per lanciare gli ultimi appelli In favore del no al referendum Non mancano le bordate Al premier Renzi E al governatore Della campagna De Luca Siamo agli ultimi appelli Di una campagna elettorale Avvelenata E carica di tensione Chissà se gli indecisi Sono riusciti alla fine A farsi un'idea Nella lite continua Che si è registrata Fino all'ultimo Tra gli schieramenti Del sì e del no Il premier Matteo Renzi Ha scelto Napoli E la campagna Per l'ultimo comizio Il voto del sud È decisivo Ha detto il presidente Del consiglio Che ha attaccato Ciriaco De Mita In 40 anni Non ha fatto le riforme E ora dice Che questa è frettolosa E poi Renzi È stato ironico De Mita e Cirino Pomicino Potrebbero essere La nuova classe dirigente Se passa il no Ha assicurato Renzi Lascio gli inciuci Agli altri A voi il compito Di scegliere sì Questo paese Finalmente La smette Con una burocrazia Asfissiante E inizia il futuro Oppure si tiene Gli stessi di prima Se si tiene Gli stessi di prima Da lunedì Non so se ci sarà Un governo tecnico Tecnografico In un altro modo So però che il paese Il servizio Sulla chiusura Napoli Della campagna Referendaria Per il sì Del premier Renzi Che ha attaccato Ciriaco De Mita Schierato invece In favore del no E come detto In favore del no Si schierano anche De Magistris e Di Maio Che hanno chiuso Che hanno chiuso Rispettivamente A Pomigliano d'Arco E Nola Vediamo allora L'onorevole Di Maio E i 5 stelle A Pomigliano d'Arco Con il porta a porta Al parco degli amici Nel rione della 219 Il sindaco metropolitano Di Napoli De Magistris A Nola Per un bagno di folla A Villa Minieri Separati da poche decine Di chilometri Ma uniti sul fronte Del no Al referendum I due leader Politici campani Hanno bocciato severamente Le riforme Del premier Renzi Noi dobbiamo stare attenti A questo signore Questo sarà Benissimo Vendere pentole Ma dalle nostre parti Si dice Vende pacchi E dobbiamo stare Molto attenti Bisogna andare a votare Perché basta un voto Per vincere Per difendere La casa comune Degli italiani Difendere la democrazia Contro invece Una visione autoritaria Del paese Che vuole concentrare Tutto il potere Nelle mani Di una sola persona Non è questa l'Italia Che vollero i padri costituenti Non sono mancate Poi bordate Al governatore Della regione campania Vincenzo Di Luca Finito nel mirino Di Di Maio E De Magistris Per essersi schierato Nettamente a favore Del sì Quando De Luca parla Noi dobbiamo sorridere Perché le sue Sono delle frustrazioni Lui ha di fronte Un gruppo parlamentare Di persone Sono entrate in Parlamento Senza fare voto di scambio Senza chiedere soldi A nessuno Senza fare promesse Che non si potevano mantenere È una vita Che questo fa politica Ed è logico Che è frustrato Chissà quante promesse Quanto voto clientelare Ha dovuto fare In questi anni Non lo so Quante fritture di pesce Ha dovuto offrire Per ottenere i voti So che è molto brutta La campagna elettorale finale Che ha fatto il presidente De Luca Con questo voto clientelare Così evidente Noi siamo diversi Noi siamo persone Pulite Trasparenti Un modo diverso Di fare politica Ed è per questo Che lottiamo E abbiamo liberato Napoli Da quel sistema politico Ben rappresentato Dalle politiche De Lucchiana E Renziana Cambiamo argomento 83 persone denunciate 35 attività Sospese O sottoposte A sequestro Una persona arrestata Per combustione Illecita di rifiuti E questo il bilancio Del blitz Dei carabinieri Tra Napoli e Caserta Nella terra dei fuochi Simonetta Iepariello Un mega blitz Con ispezioni dall'alto E verifiche capillari Tra Napoli e Caserta Nella terra dei fuochi Sono 83 le persone denunciate Una arrestata Con sigilli e sospensioni Per 35 aziende E questo è il bilancio Dell'operazione Portata a termine Dai carabinieri E' stato utilizzato Anche un elicottero Per accertare Che fosse rispettato Il divieto di coltivazione Sui terreni Tra Caivano Ed Acerra Classificati dall'ARPAC Agenzia regionale Per la protezione ambientale Della Campania Come rientranti Tra il quarto E quinto livello Di inquinamento Insomma terreni Nella zona rossa Quella a rischio Della cosiddetta Terra dei fuochi I controlli Hanno interessato Fabbriche Attività tessili Aziende di abbigliamento Autolavaggi Carruzzerie Depositi di carburante La persona denunciata E' finita nei guai Per combustione illecita Dei rifiuti I riati contestati Vanno dallo smaltimento Non autorizzato Dei rifiuti All'emissione illecita Di fumi in atmosfera Dallo sfruttamento Del lavoro nero e clandestino Alla violazione Della normativa In materia Igiene Sui luoghi di lavoro Dall'abusivismo edilizio Fino alla mancanza Di sicurezza Per i lavoratori Nello specifico A Giuliano In un'azienda zootecnica Estesa su 56.000 metri quadri Con 400 capi di bestiame Non esistevano I registri di carico E scarico Dei medicinali Per gli animali E dell'etame Il titolare Aveva inoltre Dimenticato Di far rimuovere Quattro tettoie Di aimanto Dalle stalle Il tutto Per un totale Di 400 metri quadri Di coperture A Qualiano Un coltivatore Inrigava i terreni Prendendo acqua Da un pozzo A ridosso Di un'area Sequestrata Per presenza Di rifiuti Con il pericolo Di inquinamento Delle falde acquifere A Cicciano Un 72enne E' stato sorpreso Mentre incendiava Rifiuti vegetali E di plastica Su un fondo agricolo Incubo Targhe alterne Ad Avellino I valori di smog Tornano a preoccupare E si muove L'assessorato All'ambiente Annunciati Due giorni Di stop Alle auto L'8 e l'11 dicembre Se non dovessero bastare Appunto Torneranno Le targhe alterne I commercianti Dicono Solita storia La città Sta morendo Allarme smog Ad Avellino Ci risiamo Gli sforamenti Registrati Di polveri sottili Sono arrivati a 29 Il limite annuo E 35 Allora L'amministrazione comunale Corre ai ripari E prevede due giornate Di chiusura totale Al traffico delle auto Per l'8 e l'11 dicembre Ogni anno La storia si ripete In prossimità del Natale Il giorno dell'Immacolata E la domenica successiva Sono le prime Due vere occasioni Per commercianti Acquirenti Per spendere O per iniziare A dare uno sguardo Alle vetrine Loro I commercianti In un misto Di rassegnazione E rabbia Dicono Non siamo sorpresi Ce lo aspettavamo Stiamo talmente Navigando nell'oro Che non ne possiamo Più riempire di bauli Quindi li dobbiamo svuotare La lezione Ce l'abbiamo vicino A Torrette di Mercogliano Dove le macchine Circolano In maniera libera E fanno le spese In maniera libera La gente Non è stressata E oramai Ci siamo abituati Qua La nostra amministrazione Ci dà il piatto servito Ogni fine anno Vanno sempre La settimana di Natale Dal 19 Al 24 E fissa Queste cose Dovrebbero farle O dopo Natale O prima A novembre Quando c'è stato Il mese dei morti Siccome i morti Li abbiamo in casa Perché sono gente Che non capisce La città Sta morendo E se questo primo Provvedimento Non dovesse bastare Già pronte Le targhe alterne E' ancora meglio Ancora meglio Speriamo Che almeno Vero poche acqua Poi Si Si spagnano Poco Tutte queste cose E' meglio chiudere E andare tutti a casa Anche il comune Dovrebbe chiudere A questo punto Guarda caso Poi gli sfioramenti Ci sono sempre A dicembre L'assessore all'ambiente Che poi cambia Ogni tre mesi E' come Però alla fine Paghiamo sempre Noi commercianti Almeno male C'abbiamo l'impianto a gas E arriviamo Lo stesso Alla pure I carabinieri Di Marcianise In provincia di Caserta Hanno scoperto E arrestato Un latitante L'uomo Il 10 ottobre scorso Aveva rapinato Un gioielliere Del posto Insieme ad un altro Complice Durante la rapina Aveva sparato Contro il titolare Del negozio Offerendolo al petto I due poi Hanno fatto perdere Le loro tracce Abbandonando sul posto Una motocicletta Anche questa Oggetto di furto Le indagini Della procura Della Repubblica Di Santa Maria Capoavetere Hanno permesso Di ricostruire Nei minimi dettagli L'organizzazione Del colpo Alla gioielleria E la successiva fuga In particolare L'uomo è stato rintracciato Presso l'abitazione Del padre Nascosto in un'intercapedine Ricavata nel muro Di una stanza da letto Coperta Da un grosso armadio I reati Di cui l'uomo Sarebbe colpevole Sono rapina aggravata Tentato omicidio Porto illegale Di armi Luogo pubblico E ricettazione Ora a Salerno Il più grande Investimento privato Del mezzogiorno Migliaia di metri quadri Tra centro commerciale Parchi e servizi Così rinascono Le cotoniere a Fratte Questa mattina Gianni Lettieri Ha presentato Il megaprogetto Che sarà inaugurato Lunedì Rossella Strianese Un vasto piano Di riqualificazione Ha interessato Il quartiere di Frattex Zona industriale di Salerno Che da lunedì Sarà centro per lo shopping E il tempo libero Grazie al più grande Investimento privato Del mezzogiorno Gianni Lettieri Ha presentato il progetto Al circolo Cannottieri Un investimento importante 140 milioni di euro Il più importante Del mezzogiorno Senza un euro pubblico Tutte risorse private La riqualificazione Di un territorio Parchi a verde Parco pubblico Passeggiata fluviale Questo è il primo pezzo Poi ci sarà il secondo pezzo Al di là del fiume Che inizieremo a giugno Che è la parte residenziale Quanti addetti Saranno occupati? Mille persone dirette Più l'indotto Il passato delle prestigiose industrie Non andrà perso Non appena completata La ristrutturazione Dell'antica palazzina Degli uffici Ci sarà posto anche Per il primo museo Delle attività industriali Del regno delle due Sicilie Tutto ciò è stato possibile Grazie alla collaborazione Con l'amministrazione De Luca Ha detto Lettieri Inevitabile Il paragone con Napoli Se non ci fosse stata Questa amministrazione Questa operazione Non si sarebbe mai realizzata Ma la lungimiranza Di questa amministrazione È stata proprio Nel fatto a dire Questa cosa La facciamo Ma la devi realizzare tu Quello che si fa a Salerno Si può fare anche a Napoli Quello che si fa a Salerno Si potrebbe fare anche a Napoli Ma non con questa amministrazione Non si pensa Alle cose vere Che servono al territorio Ma si pensa A fare politica Politica nazionale Andare contro Renzi Poi ho detto La questione Purtroppo Della qualità della vita Ma vedrà Che succederà Diranno la stessa cosa Anche sulla criminalità organizzata E si pensa All'altro Si pensa A lavarsi la bocca Perché noi abbiamo Via Parteno Per il sole Il mare Ma il 90% Di napoletani Vivono in altre zone Che non sono quelle Andiamo a Benevento Schiarita In Asia La partecipata Che si occupa Di rifiuti Del capoluogo Sannita Dopo lo scontro Tra direzione e lavoratori Arriva un chiarimento Ma i dipendenti Ribadiscono La loro posizione Svolgiamo un lavoro Ottimale E vogliamo rispetto Cristiano Vella Quasi rientrata La situazione difficile Che si era registrata In Asia Dopo la lettera Del direttore Romito Ai dipendenti In cui venivano Prospettati tempi difficili Ma si chiedeva Di evitare tensioni I dipendenti Hanno risposto Duramente Prima di incontrare Romito Incontro Che sembra poi Aver riportato la calma Ma i rappresentanti Sindacali Hanno spiegato La situazione Chiedendo rispetto E chiedendo soprattutto Che non vengano toccati Gli stipendi Effettivamente Siamo vivendo Dei momenti Un po' particolari Con una tensione Molto alta In merito All'erogazione Degli stipendi Già nei mesi scorsi Abbiamo avuto Qualche problema Di ritardo Di almeno 3 o 4 giorni Questo mese Hanno pagato Gli monumenti In due tranche Da notizie Pervenute Dal direttore E dal consiglio Di amministrazione Si dice Che il comune Non naviga In buona acqua E quindi Non può Come dire Ogni mese Versare le quote Per poter Far fronte All'erogazione Degli stipendi A noi interessa Tutelare i diritti Dei lavoratori Affinché il 26 Di ogni mese Venga erogato Lo stipendio Da circa un mese Una baby gang Semina il panico Tra i commercianti Di via Roma E via mercanti A Salerno Lanciando sacchetti Di spazzatura Nelle attività E colpendo le vetrine Con calci E pietre Massimiliano Grimaldi Seminano il panico Tra i commercianti Del centro di Salerno Incappucciati Si muovono in gruppo Tutti i minorenni Durante l'orario Di chiusura Serale delle attività Commerciali E questa la baby gang Che si aggira Nella zona Tra via Roma E via mercanti Come si evince Dalle denunce Arrivate ai carabinieri Con diversi negozianti Che hanno parlato Addirittura di irruzioni Con pistole e giocattola Alla mano Per spaventare clienti Uno dei commercianti Addirittura è riuscito A filmare la banda In azione Lanciano sacchetti Della spazzatura All'interno dei negozi Colpiscono vetrine Con calci e pietre I carabinieri Sono riusciti Ad individuare La baby gang Che poi è stata Condotta in caserma Per l'identificazione Ma c'è chi Tra i commercianti Della zona Non crea allarmismo Sulla vicenda Non ho nessuna percezione Di problemi Novi Di nessun genere Insomma Forse Si passano Dei ragazzi Possono Assolutamente Niente di C'è a me Non risulta Proprio niente Veramente Assolutamente Niente E' probabile Che la signora Abbia fatto qualcosa Di Non lo so Che abbia infastidito Queste persone E quindi sia Qualcosa di personale Però in generale A Salerno Di ragazzi Che vogliono fare Gang Ce ne sono fin troppi La notizia Mi giunge nuova Devo essere sincero Non ho mai sentito Di queste cose Penso che Salerno Sia una città Abbastanza tranquilla Vivibile C'è qualche problema Di vandalismo Però è limitato È qualcosa Di ragazzini così Concentrati un po' Sulla zona del lungomare Però E del resto è tranquillo Non ci sono grossi problemi Prima seduta Del nuovo consiglio Provinciale Ad Avellino Con l'incognita Referendum Gamba corta Rilancia Sull'importanza Delle competenze Dell'ente Dice Mi sento ancora Il presidente C'è tanto lavoro Da fare Inizia il secondo biennio Gamba corta La provincia di Avellino Stamattina Si è insediato Il nuovo parlamentino Di Palazzo Caracciolo Una prima presa Di contatto Per i 12 nuovi consiglieri Con tanto di foto Di gruppo Tuccia Farese Festa Ambrosone Lengua Di Cecilia Giacquinto Sarno Picone D'Angeli Spelosi Romano Questa La nuova squadra Che si insedia Con l'incognita Referendum Se dovesse vincere Il sì Fortemente probabile Che l'ente provincia Possa essere ridimensionato O scomparire Almeno nella composizione Attuale Ci sono stati una serie Di governi Che hanno ritenuto Che le province Fossero il male d'Italia E non è così Ma non mi attacco Alle poltrone Se il Parlamento Deciderà di cancellare Le province Va bene così Se invece I cittadini Decideranno Che si deve votare Di nuovo Io sono pronto E a disposizione A lasciare immediatamente La mia carica Ma gamba corta Per il momento Si sente pienamente Presidente E rilancia Sulle competenze Della provincia A cominciare Dalla scuola Chi ospita Migliaia di ragazzi Che frequentano Le scuole superiori Tutti i giorni Ha la responsabilità Di garantirgli Un ambiente Confortevole Sicuro Delle scuole belle Delle scuole In cui si possa poi Lavorare Anche con maggiore entusiasmo Noi sappiamo bene Che questo è un handicap Importante Che abbiamo Rispetto alle scuole Del centro nord Anche questo Bisogna in qualche modo Provare a superarlo Tra i neo eletti In quota PD C'è Enza Ambrosone Che bissa la carica Di consigliere comunale Ad Avellino Le competenze Demandate allo Stato Alle province Sono di notevole Importanza Tra l'altro Molto avvertite Dalla nostra comunità In questa fase Di particolare Transizione Sciopero di 5 minuti In tutti i porti In Italia Per chiedere Maggiore sicurezza Negli scali A Salerno I sindacati Chiedono di aggiornare Il protocollo D'intesa fermo A 10 anni fa E si annuncia La mobilitazione Unitaria Dopo la morte Dell'operaio Lino Trezza Lanzilli 5 minuti di silenzio Scanditi solo Dal suono delle sirene E delle navi Da nord a sud In tutti i porti D'Italia E la protesta Che Filt CGL Filt Cisle E Will Trasporti Hanno attuato Questa mattina Per sensibilizzare Gli enti preposti Sul tema Della sicurezza Sul posto di lavoro Un filo rosso Con le tragedie Di questi giorni A Salerno Prima con la morte Di Lino Trezza Schiacciato dai container E a Messina Poi con la morte Di altri tre lavoratori Un doppio binario Locale nazionale Che a Salerno Porta le sigle sindacali Il protocollo D'intesa sulla sicurezza Dello scalo salernitano Fermo a dieci anni fa Al di là di quelle Che saranno Le azioni della magistratura Tese ad accettare Responsabilità Eventualmente i colpevoli Agiremo su due livelli Un livello locale Ed un livello nazionale Rispetto al livello locale Il 12 preannuncio Un presidio Da parte di tutti I lavoratori portuali Di Salerno Presso la durità portuale Al fine di evidenziare Le proposte Delle organizzazioni sindacali In merito Alla problematica Della sicurezza Da un punto di vista nazionale Invece Stiamo mettendo in campo Una forte rivendicazione Nei confronti Dei ministeri competenti Ministero del lavoro Ministero dei trasporti Per far sì Che i decreti attuativi Che hanno lasciato scoperto Settori importanti Come le ferrovie Porti e marittimi Siano attuati C'era stata anche Una discussione Però oggi come oggi Continuano a giacere In qualche cassetto Di ministeri competenti Purtroppo a prendere Puglia A Benevento Riunione tra i vertici Di Palazzo Mosti E lavoratori e dirigenti Della MTS L'azienda di trasporto pubblico Per trovare una soluzione Alla difficilissima situazione Che si è creata Vediamo Un incontro cruciale Per provare a trovare Una soluzione Alla difficile situazione Di AMTS L'azienda che si occupa Di trasporto pubblico A Benevento È cominciato pochi minuti fa A Palazzo Mosti Un incontro tra il sindaco Di Benevento Clemente Mastella L'assessore Ambrosone I rappresentanti sindacali I vertici di AMTS E la parte legale L'obiettivo è fare il punto E trovare una via d'uscita Alla situazione Dopo che è stato decretato Il fallimento Della partecipata Soluzione che naturalmente Deve essere volta A garantire I 91 dipendenti Per i quali era stato Ipotizzato Il licenziamento collettivo Da parte della curatela Proprio questo Si vuole evitare E il modo individuato Sarebbe una possibile Proroga del servizio provvisorio In modo da non privare La città del servizio Di trasporto pubblico E di non far scattare Il licenziamento Per i 91 dipendenti Dell'azienda partecipata Del comune Una soluzione Di continuità Che eviterebbe Scenari drammatici Per i lavoratori Che al momento Vivono già Una condizione Di disagio notevole Considerando che sono In arretrato Di 4 mesi di stipendio I sindacati Hanno chiesto Di trovare Una soluzione Che sia soprattutto A salvaguardia Dei lavoratori E dell'utenza Dall'esito Dell'incontro di oggi Si capirà Quale strada Intende seguire Palazzo Mosti Scampia Presto Sarà un presidio Di legalità e sport È stato firmato L'accordo Per il progetto Per la realizzazione Di una struttura Polivalente L'inaugurazione Del cantiere È prevista Prima di Natale La consegna Entro marzo Legalità e sport Al via La cittadella di Scampia È stato firmato Il protocollo Al coni Per la realizzazione Dell'impianto Polivalente Boscariello L'area sorgerà All'interno Dell'ex caserma Tra Miano E Scampia 76.000 metri quadri Saranno gestiti Dalle forze Dell'ordine Per fare Della struttura Un presidio Di legalità 14.000 Ad alconi Nell'ambito Del progetto Sport Periferia Che prevede Il recupero Di immobili Pubblici All'interno Del centro Saranno costruite Due palestre Con tribune Da 150 posti Una per le arti Marziali Un'altra Polivalente E poi La sala Fitness Spogliatoi Infermeria Tempi stretti Per i lavori Prevista L'inaugurazione Del cantiere Prima di Natale Serviranno Poi tra i 18 E 24 mesi Per la realizzazione Del primo lotto Il progetto Sarà realizzato Attraverso il fondo Sport e Periferia Che permette alconi Di gestire risorse Per 3 milioni E mezzo di euro Il protocollo D'intesa È stato firmato Insieme alconi Dal ministro Degli interni Angelino Alfano E dal ministro Della difesa Roberta Pinotti E dal direttore Dell'agenzia Del demanio Roberto Reggi Quando lo Stato Decide di fare squadra Detto Alfano Fa anche gol Scampia Diventerà un polo Di sicurezza E Napoli Accanto Avrà la sua cittadella Dello sport Per la Pinotti Era un risultato Atteso da tempo Abbiamo giocato All'attacco Decidendo di rendere Disponibile Ciò che non serve più Chiudiamo in musica Tutto pronto Ad Avellino Per Rainy Days Dal 7 al 10 dicembre Una pioggia Di concerti Sei locali Sei appuntamenti Nell'ottica del club To club Da un locale All'altro Da vivere tutti Passando tra ambienti E sonorità differenti Il Black House Blues Garofalo Gelosia Godot Art Bistro Fra Lou E Why Not Ecco la mappa Del Rainy Days Una pioggia di concerti Gratis ad Avellino Dal 7 al 10 dicembre È lo spirito Che anima La terza edizione Del festival itinerante Organizzato da Coine Art Lab Con il patrocinio morale Dell'assessorato La cultura del comune di Avellino È presentato Stamattina A Palazzo di Città La formula Club Ci piace Pensare che Faccia sì Che le persone Abbandonino Temporaneamente I posti in cui Si ritrovano Abitualmente Per scoprirne Di altri Incontrare altre persone Parlare tra di loro Conoscersi E quindi diciamo Cercare di creare Un senso di comunità Maggiore Che poi alla fine È quello che in realtà Manca Ad Avellino Soprattutto durante La stagione invernale Quindi La pioggia Dell'inverno Che diventa Da fattore di isolamento Un fattore invece Aggregante Di socialità L'amministrazione comunale È vicina a questa iniziativa Come a tutte le iniziative Che intendono portare Qualità Buona musica In questo caso Occasioni di socializzazioni Importanti Interessanti In città E sono quegli eventi Che ci fa piacere Patrocinare Perché creano Quel giusto movimento In una città Che anche con questo tipo Di musica Ha bisogno di essere Un po' svegliata La parte mia È tutto Adesso c'è il TG Sport Poi alle 15 Una nuova edizione In diretta Del nostro telegiornale Arrivederci